Io dico no per tre ragioni. La prima l'ho detta prima perché sono riforme che dividono. Siccome io ho visto gli effetti nel 2000 della riforma del titolo quinto votata dal centrosinistra, 2001, era all'inizio del 2001, per riconoscimento degli stessi autori è stato un disastro. La devolution di Berlusconi e di Bossi non parliamone. Tutte le riforme che hanno questo sigillo di divisione, di disunione del Paese, secondo me non fanno bene, non portano fortuna. Il secondo motivo? Il secondo motivo è che questa riforma è implicitamente legata a una legge elettorale che io trovo molto discutibile, per usare un eufemismo e cercare di tenermi al livello di educazione che ha imposto questa sera Tepino Aiala. E la terza ragione è nel merito perché secondo me questa sorta di bicameralismo zoppo che si realizza tra Camera e Senato non funzionerà.